Le istituzioni e la politica devono tornare a svolgere il loro ruolo a difesa del territorio, dei cittadini, degli operatori, dei servizi sanitari, poiché hanno l'obbligo costituzionale di dover assicurare il diritto alla salute ad ogni cittadino, senza dimenticare il contesto sociale, territoriale e orografico in cui si vive. Lo affermano Anthony Pasqualone e Francesco Marrelli della CGL che chiedono una soluzione definitiva per il punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Basta proroghe e spartizioni di responsabilità. Oggi, ad elezioni ultimate, ci piacerebbe vedere quegli intenti tradotti immediatamente in atti amministrativi, finalizzati una volta per sempre a chiudere positivamente l'avvertenza che, a detta di qualcuno durante la campagna elettorale, era già stata risolta. Fanno notare CGL e FPCGL che continuano a denunciare e a lottare affinché non debbano essere le future mamme, a recarsi in centri lontani dalle proprie abitazioni, ma che sia servizio sanitario a avvicinarsi a chi ne ha bisogno essendo il diritto alla salute inalienabile di prossimità. Il pensiero va infatti al lieto evento dell'altra notte che ha visto un bambino venire alla luce poco più di mezz'ora nell'ambulatorio dell'ospedale di Sulmona a dimostrazione della necessità del mantenimento del presidio sanitario, delle capacità, professionalità e della massima disponibilità degli operatori del nostro comio Peligno. La notizia abbattuta da onda di G non è passata inosservata. Riteniamo da sempre l'avvertenza sul punto nascita di Sulmona prima di tutto una questione di civiltà, perché sguarnire un territorio così vasto di un presidio fondamentale sarebbe una scelta scellerata. Questo dovrebbe essere l'impegno della politica e non le diatribe a cui abbiamo assistito in questi anni che hanno portato a una lenta e costante agonia, concludono i sindacalisti.